Come difendersi dalle telefonate truffaldine, strategie e consigli Le telefonate truffaldine sono diventate un fastidioso problema per molte persone in tutto il mondo. Ricevere chiamate indesiderate da truffatori, telemarketing aggressivo o persino frodi finanziari può essere non solo irritante, ma anche pericoloso per la tua privacy e le tue finanze. Fortunatamente, esistono strategie e consigli che puoi seguire per difenderti da queste chiamate moleste. Ecco cosa puoi fare. 1. Lista Robinson e registro delle opposizioni In molti paesi, esistono servizi pubblici che consentono di registrarsi per non ricevere telefonate di marketing indesiderate. In Italia, ad esempio, puoi iscriverti al registro delle opposizioni. Inoltre, puoi registrarti alla lista Robinson, un servizio europeo che ti permette di limitare le chiamate di telemarketing. 2. Identificazione del chiamante Utilizza le funzioni di identificazione del chiamante sul tuo telefono per vedere chi sta chiamando prima di rispondere. Molti telefoni cellulari e fissi oggi mostrano il nome o il numero del chiamante. Se il numero è sconosciuto o sembra sospetto, puoi scegliere di non rispondere. 3. Blocca i numeri sconosciuti Puoi configurare il tuo telefono per rifiutare automaticamente le chiamate da numeri sconosciuti o non identificati. Questo ti permetterà di ignorare gran parte delle chiamate truffaldine. 4. App anti-spam Scarica e utilizza app anti-spam sul tuo telefono Queste app possono identificare e bloccare automaticamente le chiamate indesiderate in base a database di numeri, noti per le frodi o il telemarketing aggressivo. Alcune app popolari includono Truecaller, IIA e Mr. Number. 5. Non divulgare informazioni personali Sii cauto nel fornire informazioni personali al telefono. I truffatori spesso cercano di ottenere dati come il tuo numero di previdenza sociale, informazioni bancarie o altre informazioni personali sensibili. Non fornire mai queste informazioni a meno che tu non sia sicuro della legittimità della chiamata. 6. Segnala le chiamate fraudolente Segnala qualsiasi chiamata fraudolenta alle autorità competenti In molti paesi, le autorità regolatorie hanno il potere di perseguire i truffatori. Puoi anche segnalare le chiamate indesiderate al tuo fornitore di servizi telefonici. 7. Considera il blocco selettivo Se le telefonate da numeri sconosciuti diventano un problema grave, potresti voler attivare la funzione di blocco selettivo sul tuo telefono. Questo ti permette di ricevere solo chiamate da numeri nella tua lista dei contatti. 8. Attenzione alle frodi comuni Educati sulle frodi telefoniche più comuni Queste includono chiamate da presunti rappresentanti di istituti bancari, compagnie di carte di credito, o organizzazioni governative che cercano informazioni personali o finanziarie. 9. Fai sempre una verifica accurata prima di condividere qualsiasi dato sensibile. 9. Registra le chiamate, se consentito dalla legge In alcuni paesi, è legale registrare le chiamate telefoniche senza il consenso dell'altra parte. 10. Questo potrebbe essere utile per avere una prova delle telefonate indesiderate o delle minacce. 10. In conclusione, difendersi dalle telefonate truffaldine richiede un po' di cautela e preparazione. 11. Utilizzando queste strategie e consigli, puoi ridurre notevolmente il fastidio e il rischio associato alle chiamate indesiderate. 12. Ricorda sempre di essere cauto e di non condividere informazioni personali con sconosciuti al telefono. 12. Ricorda sempre di essere Slow-ColaSD 13. Ricorda sempre di essere inclusante Grazie a tutti.